Qua zia Guarda cosa abbiamo comprato ieri Non è di mangiare no Dimmi un colore zia, azzurro o bianco? E' un azzurro o un bianco? No, scegli un colore, o bianco o azzurro, dimmi tu E' il colore di cosa, di qualche cosa? Si ma dimmi tu, lo vuoi bianco o azzurro? E voglio quello e quello E dimmi uno zia, tante commedie Celeste allora Celeste, bene Ecco qua Allora, c'è un sciroppo qua Eh? C'è un sciroppo dentro Ma che sciroppo? Un sciroppo di medicina Ma non è una medicina zia, no? Dai Apri, apri Lì, lì, tira su lì Bravissima, dai Stavolta guarda dia Mi spacca telecommandomi Ecco là Ma non è un gioco zia Ma non è un gioco zia Altro gioco, vedete? Ma non è un gioco zia Quelli è un telecomando, non vedi? Un telecomando? Eh Che cosa c'è anche questo? Allora zia, questo qui si chiama Wii Motion Plus Eh, ostia Ascolta Questo telecomando zia È l'unione Fra il Wii Remote E il Wii Motion Plus Quindi viene fuori Wii Remote Plus Questo telecomando Tu lo punti sulla televisione E dopo puoi giocare Con certi giochi Sì La televisione là Con l'antenna staccata Sempre la solita Eh? Che si può fare con lui? Non era una bella zana? Eh, quello lì lo usi Ma non è un soldi per niente Ma no zia Quello lì mi serve come controller della Wii Tu hai la Wii? Sì E dove l'hai messa? A te ti serve tutto E non ce ne graffa non la viene più La Wii? Dove l'hai messa la Wii? A Wii? Dove? Dove l'hai messa tu? Eh? Vedi zia Tu questo qua lo metti nella mano Come l'orologio Metti su Sì Dopo stringi qua Tipo non c'è duro E con la mano qua lo tieni E lo punti sulla televisione e giochi? Eh? Gioco? Sì Eh senti Non è che solo quella Senti In questo qua Mi si mette tanto come ho fatto Nonate Eh? Metti il mio posto Il motosega invece Che Potrei sentire ogni tanto qualcosa Eh? Non puoi trovargli un posto A chi? A motosega E dove devo metterla? Non puoi trovarlo un posto Perché io arrivo a frillo A frillo Imparare a frillo O almeno no? Eh Vedi zia Non è che hai fatto la frillo no? Lì è blu E dopo qua ce l'abbiamo anche bianco il telecomando Eh? Abbiamo un telecomando blu E anche uno bianco qua dentro Sì Eh abbiamo tante cose Non so se c'è dio Eh Luca che l'è Sì Tiriiamolo fuori Una cosa che c'è Anche l'ultimo mangi Ma Maurizio Vedi zia Di due quali sono? Sì Vedi che c'è scritto Wii Motion Plus Inside Di due quali c'è? Adesso ne hai due Diamo un padrone del mondo Sei zia Eh? Con due telecomandi Potresti dominare il mondo Sai Sì Sì Due uguali sono Potresti fare cosa Dominare il mondo? Sì E con cosa? Per fare cosa? Eh ma se tu Se non si sa usare Eh ma se compri anche la Wii Dove puoi giocare? Sì Se compro niente Meglio di niente Quindi teniamo i telecomandi Senza Wii Boh Non ti va proprio niente Perché quella è sempre quella È come la pollica di Batch Questo Chi? Contami contami Ho visto storia? Eh Questo qua È come la pollica di Batch E cioè? Che suonava quella Sempre quella suonava E dopo? Nella orchestra Eh È un po' finito da suonare No? È venuto vecchio anche lui Bene Zia E adesso E adesso Che ci ha spinto L'amore E' un po' finito da suonare E' un po' finito da suonare Ecco E' un po' finito da suonare Dei po' finito da suonare C'è un po' finito da suonare C'è un po' finito da suonare Non ti va? Non mi va Non mi va e boh E' un po' finito anche Non mi fa male il cuore Putta via tutti quei soldi Con tanta miseria di soldi che Eh ma Zia Io avevo sia Avevo due telecomandi E col motion plus Poi ho pensato Li vendo separatamente Mi compro quello nuovo Che volevo avere anche un azzurro Sì Adesso Non vi faccio un calcolo sopra? No? Noi avevo una buona merenda Con questi soldi Mi stava più bene E' buon Zia Ma quei telecomandi lì Mi servono a me Ma cosa facci sempre? Per cosa? Per cosa devi studiare sopra? Non so io Per la Wizzy Devo giocare a GoldenEye Ma cosa devi fare? Non ho detto Che è in pennelli Cosa devi fare? Non c'è abbastanza di promi Mi romate Sì ma dopo mi serve Per GoldenEye Poi esce Epic Mickey Poi esce Donchè Contra i Retour Sì Ti danno un lavoro Questi qua ti danno Cosa ti danno? Ma io do lavoro a loro A tutto il lavoro A loro Cosa ti danno? Eh Quindi Zia Una tua opinione finale? E' che non mi va Niente Niente Per niente Neanche stavolta E' che non mi va Perché non arriva a mettermi dentro In queste cose Non ho mica venti anni Quindi Un saluto a tutti Sì Statemi bene E vai su Morsi Sibuiti Algegios Ciao Ciao Ma io mi fai Mazzare sempre Ogni giorno Mi fai impassionare Con queste cose Mi fai venire Il risultamento Tu E noi Eh sì E noi Mi fai impassionare E noi Mi fai impassionare Grazie.